Dimesso dall'incarico e destinato altrove, è quanto ha disposto il Ministero dell'Interno nei confronti del Vice Prefetto di Padova Pasquale Aversa, indagato dalla Procura per una serie di presunte irregolarità nella gestione di strutture di accoglienza dei migranti nel Padovano. Il tutto avviene mentre il Sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan, e il collega di Agna, Gianluca Piva, si sono detti pronti a costituirsi parte civile contro lo Stato se la giustizia dovesse mandare a processo il Vice Prefetto Aversa e una ex funzionaria della stessa prefettura, anche lei indagata. Con i due dirigenti sarebbero iscritti nel registro degli indagati anche i responsabili della cooperativa che gestisce tra gli altri i centri di accoglienza di Bagnoli e Cona. Le accuse vanno dalla turbata libertà degli incanti, cioè delle gare, la frode nelle forniture pubbliche, la truffa, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, l'induzione in debita, la rivelazione di segreto d'ufficio. Le indagini vertono in particolare su due appalti per la gestione dell'accoglienza ai migranti del valore di circa 20 milioni di euro. Oltre allo sgomento per l'indagine su un funzionario e sugli uffici dello Stato, Piva e Milan ricordano come nei loro due paesi vi furono due donne aggredite da rifugiati, tensioni continue, il crollo dei prezzi degli immobili e la perdita di posti di lavoro. Ora vogliamo vederci chiaro, dicono i due primi cittadini, che ricordano come la gestione dell'accoglienza in questi anni nei loro comuni spesso non sia stata chiara, con i divieti a fare controlli dentro gli hub, la promessa di chiusura fatta dal prefetto nel 2016 è non ancora mantenuta. Qui da noi, dicono i sindaci di Bagnoli e Agna, lo Stato ha perso la faccia.